Da Radio Roma, la radio dei VIP, incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo in un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. 14 luglio 2007, ultima puntata della stagione, poi ci risentiremo a settembre, io dico sempre ci rivedremo perché noi supponiamo inizialmente di fornire ai nostri dati ascoltatori una trasmissione più vista che sentita quasi per far immaginare, cerchiamo di scrivere meglio le cose, per cercare di dire, perciò a volte ci rivediamo, in teoria ci rivediamo effettivamente. Un saluto a tutti voi, grazie per essere all'ascolto, che come dico sempre o quasi sempre siete la parte principale di questa trasmissione perché senza il vostro supporto uditivo chiaramente non saremmo qui naturalmente. Poi un grazie naturalmente, un saluto a Giuseppe Savoca dall'altra parte del vetro in cabina di regia e partiamo, entriamo nel vivo appunto di questa puntata e questa puntata in questo ricordo, 14 luglio, ormai a metà mese poi avrete nelle prossime due settimane fino ad agosto ci saranno sicuramente delle repliche delle migliori puntate dell'anno della stagione. Comunque questa è l'ultima puntata, tra l'altro una puntata molto particolare che ho tenuto moltissimo a organizzare in quanto ho ricevuto come direttore di Talimedia una lettera una lettera, noi come ben sapete abbiamo sempre dato voce un po' alle cellule più deboli, al nostro tessuto sociale quelle che spesso sono in qualche modo calpestate, mortificate, schiacciate direi con i cingoli dall'arroganza e dal potere di pochi eletti. In base alla lettera che mi è giunta come direttore di Talimedia diciamo che in base a quello che c'è scritto si veniva a verificarsi proprio una situazione di questo tipo perciò diciamo leggendo appunto la vicenda nel contesto in cui mi è stata prospettata mi sembrava giusto dare voce alle persone appunto che ci hanno contattati, che mi hanno contattato come direttore di Talimedia e giustamente ho pensato anche di trasferire questo argomento, questa situazione insomma che viene denunciata non è sicuramente l'unica purtroppo ma ho pensato bene di trasferirla in radio appunto Radio Roma e Talimedia c'è sempre questo binomio che ci ha sempre visti un po' il position quando si tratta di rivendicare diritti negati e calpestati come dicevo appunto poc'anzi da situazioni che a volte forse trascendono in qualche modo vabbè, questo mi riferisco naturalmente alla lettera che mi è stata spedita da due signori che fanno parte degli inquilini di un comprensorio appunto che si trova a Roma esattamente nel dodicesimo municipio nei pressi del centro commerciale Granai ecco tanto per undicesimo, chiedo scusa undicesimo perché proprio sta a ridosso del dodicesimo effettivamente come zona chiedo scusa undicesimo e si tratta del comprensorio via del Tintoretto 88 c'è stato tra l'altro adesso vorrei spiegarvi prima di entrare nel vivo della trasmissione vorrei dire che nella lettera sono citati alcuni soggetti appunto implicati in questa vicenda io per dovere di cronaca ho dovuto chiamare a intervenire un po' tutti questi soggetti tra cui si parla naturalmente del, vi praticamente snocciolo i nomi dei soggetti interessati che sono appunto la VISSRL e poi i nostri protagonisti, le protagonisti della vicenda che direi quasi la definirei un po' kafkiana sicuramente ci diranno insomma in che modo questi soggetti fanno parte appunto del contesto della vicenda stessa si tratta della VISSRL che fa capo appunto al dottor Giuseppe Statuto che ne è il proprietario e la VISSRL ha pensato di non intervenire in questa trasmissione poi ci sono delle organizzazioni sindacali, chiedo scusa, rappresentate, sono il SICET e il SUNIA rappresentate rispettivamente da Maurizio Savignano che è appunto il segretario generale del SICET e il signor Piero Ranieri appunto che è il segretario generale del SUNIA sono due persone citate nella lettera e io ho contattato naturalmente entrambi personalmente il signor Savignano ha detto che non vuole assolutamente intervenire a parlare della vicenda e invece il signor Ranieri stava in vacanza e ha detto che in vacanza giustamente non ha preferito continuare praticamente a godersi la sua vacanza senza intervenire in una questione che reputava appunto lavorativa ci sono anche un attacco piuttosto duro nei confronti di tre notai io ho contattato tutti e tre per quanto riguarda i notai bianchi e cecere non sono intervenuti mi è stato risposto che stavano fuori, purtroppo non era possibile rintracciarli per quanto riguarda il notaio Antonio Mosca assolutamente ha detto che non gli interessava intervenire in trasmissione questo per dovere di cronaca chiaramente c'è qualcuno che mi ha chiesto invece visto che già qualche tempo fa è stata mandata una lettera al giornale dell'amico e collega Maurizio Belpietro ex direttore del Tempo attualmente del giornale che è stato costretto a smentire quello che era l'articolo che era stato pubblicato appunto sul quotidiano sul quotidiano diciamo diretto appunto da Belpietro e praticamente in questo caso c'è stata una pubblicazione della lettera integralmente perciò dagli media non è stato realizzato assolutamente un articolo è stata sicuramente pubblicata una lettera e la smentita non potrà esserci altrimenti se non con un'altra lettera che io potrei pubblicare per quanto riguarda la radio invece diciamo non è prevista nessuna smentita appunto da quella che sono le direttive dell'ordine dei giornalisti perché nel caso della radio se le persone interessate vengono chiamate a partecipare e non partecipano rinunciano al diritto di smentita questo tanto per puntualizzare alcune situazioni bene a questo punto io però prima di entrare nel vivo della trasmissione mi fermerei un attimo perché come sempre abbiamo scegliamo come colonna sonora delle canzoni di un artista in questo caso abbiamo scelto un gruppo un gruppo che sono i Nomadi con delle canzoni molto sicuramente eloquenti e rappresentative per quanto riguarda il tema in questione e io la prima canzone che vorrei ascoltare appunto dalla voce dei Nomadi è una canzone molto bella tra l'altro scritta da Francesco Guccini che è Canzone per un'amica la linea passa a Giuseppe Savo per il reggì in capitale reggia poi rientriamo in studio per entrare appunto nel vivo della trasmissione che vi ho appena presentato Canzone per un'amica i nostri amici Peas con un PS siete sempre con noi e dopo questa bellissima canzone del punto dei Nomadi che è scritta da Francesco Guccini tra l'altro oggi in questo sabato in qualche modo una canzone che parla di stragi del sabato sera in qualche modo di incidenti e un po' anche un monito è un avvertimento insomma a tutti i giovani che questa sera escono a una discoteca insomma andate piano perché la vita si può perdere proprio in un attimo come è successo appunto all'amica di Francesco Guccini bene ritorniamo appunto a parlare di quello che è l'argomento che vi avevo preannunciato ripeto ho ricevuto una lettera di diverse pagine di un grido di angoscia proprio di rabbia che si eleva dal comprensore di via del Tintoretto 88 a Roma firmata appunto dall'ingegnere Alberto Rasile e dal signor Stefano Campolo e praticamente parla di una vicenda come ho definito prima direi piuttosto cafchiana tra l'altro anche piuttosto complessa diciamo che sicuramente se io adesso stessi qui a spiegarvi quello appunto entrare nel merito appunto di tutta la vicenda probabilmente non riuscirei a trasmettervi effettivamente i fatti in maniera precisa come possono fare giustamente le persone che mi hanno contattato e che sono appunto ospiti oggi